Folla delle grandissime occasioni nel piazzale adiacente Palazzo Furi in pieno centro storico a Casalbordino, teatro prescelto per la presentazione ufficiale della lista civica Un Nuovo Sole con Alessandro Santoro, candidato sindaco. Ed è proprio Alessandro Santoro che andiamo a sentire per un commento a caldo di questa serata, molto partecipata, gente che non avevamo mai visto neanche nelle tornate precedenti che ha affollato e gremito questa splendida piazza. Grazie mille Antonio, grazie 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 perché tu ci sei sempre, quando ci siamo noi tu ci sei sempre, sei anche il nostro portatore di fortuna perché da quando ci conosci insomma almeno sportivamente abbiamo sempre vinto quindi anche in questa competizione speriamo che le cose vadano per il verso giusto ma non solo per noi, soprattutto per i casalesi e quindi rinnoviamo la richiesta di fiducia a nome di tutto il gruppo del Nuovo Sole che questa volta si presenta rafforzato nell'organico precedente e soprattutto anche vede la convergenza di forze politiche che l'altra volta avevano composto le altre liste perché ricordiamocelo che erano quattro le liste contendenti la scorsa volta, la volta prima cinque e adesso insomma abbiamo confluito in un progetto solo per sperare di mettere fine a questo oscurantismo che dura da troppo tempo. Una lista fatta da tanti professionisti ma non professionisti della politica. Hai detto una cosa giustissima Anto, sì perché io non sono un politico e lo sai benissimo sono una persona che si presta, che presta la propria opera al proprio paese infatti queste sono elezioni amministrative, sono tutti professionisti, ex amministratori anche c'è l'ex vice sindaco che l'altra volta è stato candidato a sindaco con la lista con l'antinoro guardiamo avanti ci sono ex amministratori, quattro consiglieri comunali uscenti e dicevo una lista esperta ma nello stesso tempo professionale ma non professionista della politica perché penso che veramente nella nostra lista non c'è nessuno che voglia andare lì in comune con scopi arrivistici, anzi non è che penso, ve lo posso garantire. Spesso altri, adesso non so come si sono comportati i vostri avversari ma spesso si cercano degli accordi già preconfezionati a prescindere dall'esito delle elezioni quindi si conoscono già gli assessori, il vice sindaco eccetera eccetera tutti quelli che avranno le deleghe. Nel vostro caso mi sembra di aver capito che non è così e si vedrà dopo. Esatto, non c'è nessun accordo precostituito ed è una delle cose più brutte della politica, quella di già aver apparecchiato la tavola prima ancora di sapere quali sono i commensali. La scelta è dell'elettorato e il sistema elettorale prevede che ci sia la doppia preferenza, quindi un maschietto e una femminuccia e i più votati saranno quelli che ricopriranno le cariche apicali. Per concludere un messaggio di fair play per i vostri cortesi avversari Chiudo l'intervento di prima, io farò di tutto affinché questo gruppo rimani coeso e quindi darò deleghe un po' a tutti quanti in modo che ognuno si senta partecipato nelle scelte decisionali del Paese. Spiegherò nelle prossime uscite anche come voglio organizzare la macchina amministrativa partendo dall'apice e finendo al pendice con la base dei cittadini. Il messaggio di fair play per gli altri è questo, avete amministrato 5 anni, l'avete fatto a singhiozzo soprattutto nell'ultimo periodo avete dato una bellissima accelerata, purtroppo solo monumentale, decorativa e non fattiva. Il messaggio è questo, occupatevi di più delle vere necessità di Casalbordino, fate meno chiacchiere e più fatti e soprattutto presentate dei progetti e non copiateli. Tra candidati più attesi a questa presentazione ufficiale della lista Un Nuovo Sole con il candidato sindaco Alessandro Santoro c'era sicuramente Antinoro Piscicelli perché in molti erano curiosi di conoscere le motivazioni di questa unione di forze tra due esponenti molto importanti della vita sociale e politica casalese che nelle scorse consigliature hanno avuto delle posizioni contrapposte ma che ultimamente hanno avuto molte comunanze di idee su questi nuovi progetti per la Casalbordino del futuro. Buonasera a tutti, voglio fare una semplice premessa che questa sera forse non ho avuto modo, occasione di inserirle nel mio intervento. Come area politica comunque di centrosinistra abbiamo fatto comunque negli ultimi mesi diversi tentativi per comunque cercare di fare di presentare una nostra lista coinvolgendo tutte le componenti in campo. Naturalmente arrivati a ridosso dell'appuntamento elettorale senza aver raggiunto comunque questo obiettivo avevamo quasi desistito dalla presentazione di una lista. Dopo questo momento quasi di sconforto per non essere riusciti a presentare una nostra lista si sono aperte altre vicende perché siamo stati subito immediatamente contattati sia dalla lista di Filippo Marinucci che dalla lista di Alessandro Santoro. Naturalmente noi l'abbiamo fatto per una correttezza istituzionale l'abbiamo pure detto inizialmente cercando comunque di pubblicizzare anche quella che era la nostra dichiarazione iniziale. Dando la disponibilità comunque a tutte e due a un confronto programmatico abbiamo dato inizialmente una priorità comunque ad incontrare la lista di Filippo Marinucci perché era quella che in realtà ci aveva contattati per primo. Naturalmente iniziata questa una vera trattativa tra di noi e neanche a livello programmatico non è mai iniziata perché ci sono state solo ed esclusivamente personalismi nel senso che comunque si è parlato solo ed esclusivamente di uomini, di persone che avrebbero potuto rappresentare questa nostra area all'interno di quella lista. Questo naturalmente ci ha fatto desistere da un eventuale accordo con la lista Marinucci e abbiamo abbandonato questo tavolo di trattative come vi dicevo forse senza iniziare assolutamente nessun tipo di confronto. Naturalmente finita questa opportunità c'è stato un secondo confronto con la lista di Alessandro Santoro. Alessandro Santoro che avevo già avuto modo comunque di incontrare già qualche mese prima e ci eravamo confrontati sulla difficoltà che comunque incontrava questa nostra comunità, sulla necessità comunque di trovare delle convergenze per ridare comunque fiato, respiro comunque a questa comunità, ridare un'opportunità a questa comunità di sviluppo per il bene comunque di tutta la cittadinanza. Con Alessandro naturalmente ripreso questo discorso a distanza di un po' di tempo abbiamo avuto immediatamente un'unità di intenti e ci siamo subito buttati a capofitto perché il tempo a disposizione era estremamente ridotto nella preparazione di un programma, di un programma condiviso. Noi abbiamo portato all'interno di quel programma molti delle proposte che comunque stavano nel nostro programma di cinque anni prima. Alessandro le ha accettate con estrema chiarezza, condividendole con noi appieno. Naturalmente noi abbiamo portato in quel programma alcuni 5-6 punti che magari posso accennare e in modo particolare parliamo del distritto sanitario che è stato un punto importante del programma presentato da noi. Abbiamo inserito oltre al distritto sanitario abbiamo comunque parlato della revitalizzazione della zona FD, abbiamo parlato della via verde, della pista ciclabile, dell'opportunità comunque di approfittare a tutti i costi della realizzazione della pista ciclabile per dare comunque un nuovo volano al turismo del nostro paese. e poi in ultimo quello che era il punto fondamentale su cui io mi sono battuto cinque anni fa e che mi sono battuto anche all'interno di questi ultimi cinque anni di consigliatura che era quella di un intervento ordinario e straordinario della viabilità, non solo quella urbana ma anche quella extraurbana e rurale. Importante perché comunque noi siamo e rimaniamo anche oggi una realtà agricola dove l'attività preeminente comunque di questa comunità è l'attività agricola. Io non a caso sono un imprenditore agricolo, rappresento questo settore e credo che noi che comunque condividiamo questa esperienza lavorativa abbiamo necessità, la prima necessità in assoluto è quella di una buona viabilità per dare la possibilità a noi tutti di raggiungere i fondi agricoli e comunque di sviluppare la nostra attività. Una parte del discorso che mi ha coinvolto particolarmente è quella in cui lei ha sottolineato il fatto di partecipare attivamente ai bandi sovracomunali comprendendo benissimo che le casse degli enti locali sono ridotte al classico lumicino. Vivendo personalmente una mia personale battaglia in altri lidi quindi sottoscrivo questo aspetto. Sì, io naturalmente non ho approfondito la tematica, l'ho solo accennata però come vi dicevo sono le critiche più dure che comunque io porto a questa amministrazione e le ho fatte rimarcare in tutti i consigli comunali. Il fatto della mancanza di programmazione perché la programmazione naturalmente passa attraverso la predisposizione di progetti che non devono essere assolutamente studi di fattibilità come attualmente vengono fatte da questa amministrazione. Se andate a vedere l'ultimo elenco triennale delle opere pubbliche per chi conosce la materia, che per chi conosce la pubblica amministrazione e come funzionano queste attività scappa un sorriso perché è solo pieno di studi di fattibilità che non sono altro che pensieri, idee di voler realizzare qualcosa che chissà quando sarà realizzata. Invece la programmazione seria è fatta di progetti almeno esecutivi se non definitivi per partecipare a bande per ottenere contributi. Non a caso se andiamo a vedere quell'elenco triennale delle opere pubbliche l'unico progetto definitivo che attualmente esiste in quell'elenco triennale delle opere pubbliche è il progetto del palazzetto dello sport per cui io mi sono per giunta scontrato con Alessandro Santoro su questa vicenda perché dicevo proprio in consiglio comunale è bene spendere 5.000 euro se poi ci può fare accedere a un contributo importante per la realizzazione di un palazzetto dello sport ma questo dovrebbe essere fatto sempre e non in modo occasionale perché solo con il lavoro e con la programmazione si può poi accedere a dei fondi importanti che comunque vengono messi a disposizione dagli enti sovraccomunali. Giuseppe Vaccaro che conosciamo evidentemente per altri ambiti quelli sportivi questa sera diciamo è uscito fuori pubblicamente in un ruolo che abbiamo visto anche nella precedente tornata elettorale quello di candidato nella lista che sostiene Alessandro Santoro. Questa sera abbiamo visto tanta gente tanta partecipazione e tu Giuseppe nel tuo intervento che hai dovuto contenere per motivi di tempo e hai evidenziato purtroppo tante lacune che attualmente ha questo comune. Sì grazie Antonio hai detto bene ho presentato due slide dove ho fatto vedere in modo tangibile quello che è l'andamento demografico di Casalbordino. Ahimè Casalbordino si sta spegnendo. Purtroppo ci vogliono degli impegni programmatici per invertire la rotta. Sicuramente non sarà semplice sappiamo che non è un gioco da ragazzi ma conosco molto molto bene il candidato sindaco Alessandro Santoro che stimo molto per la sua professionalità la sua caparbietà ma vi posso garantire che oltre Alessandro c'è una squadra fortissima ci sono veramente dei ragazzi e ragazze uomini e donne che ci stanno mettendo impegno alla faccia per il proprio paese. Non è facile sicuramente ma li stimo stimo tutti quanti perché ci stanno mettendo il cuore e quando metti il cuore si riescono a fare tante 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 cose e ricordatevi cari concittadini che se Casalbordino volete cambiare un nuovo sole dovete votare.